Grazie a tutti. Di Italia vengono utilizzati, però noi dobbiamo sapere che esistono delle tecniche tipo la perfusione RM che comunque una terapia antiangiogenica riesce a seguirla. Qual è il problema? Il problema è che sono tecniche non validate, cioè che non fanno tutti, che non sono tantissimo riproducibili. Però mi riaggancio alla frase utilizzare gli occhi e la vista meglio. Cerchiamo comunque di sfruttare al meglio gli strumenti che abbiamo, tipo questo, che è sicuramente non invasivo. Io volevo dire una cosa veloce su un tema che credo sia importantissimo anche dal punto di vista del risparmio. Cioè il 30% dei tumori possono essere prevenuti. Sicuramente questa è una delle policy che ha porto avanti il professor Veronesi per molti anni. Se noi usiamo queste nuove tecnologie dell'imaging, sia diagnostico strumentale che molecolare, per sapere chi è a rischio e iniziare subito non solo la parte chirurgica, ma anche di farmacoprevenzioni, in modo che il tumore proprio non insorga, questo sarebbe importantissimo. Già abbiamo visto con gli screening che tutte le donne ormai fanno della mammografia, ma molte altre cose, che si può in qualche modo intervenire in prevenzione. Purtroppo la prevenzione dal punto di vista mediatico, giornalistico, ha poco impatto, nel senso che una nuova terapia, una nuova macchina forse piace di più. E io credo che invece sia proprio un problema di comunicazione che sia estremamente importante. Un piccolo commento, visto che siamo un panel di donne, per i finanziamenti, mi spiace che sia andata via la dottoressa. Le donne in Italia e forse anche il resto del mondo sono in percentuale meno finanziate degli uomini, perché c'è una parte di merito, ma c'è anche una parte di lobby e di politica che per noi non è così facile. Quindi non dico magari le quote rosa, chi è favorevole, chi è contrario, ma comunque avere una minimo di policy, l'Europa ce l'ha, di vedere che le donne che sono brave nelle tecnologie, che portano impact, che lavorano bene, siano anche adeguatamente finanziate. Qui chiedo aiuto anche al panel. Dottore Samilano voleva... No, volevo solo essere... precisare rispetto al suo intervento. E cioè, quello che io dico è che fornire al pubblico gli strumenti critici, un senso critico rispetto a quello che leggono e sentono e ascoltano è importante. Non significa essere contro la scienza, voglio essere... precisare questa cosa. Cioè avere... si parla tanto di empowerment, una parola inglese che si può tradurre solo con una perifrasi, e cioè dare al pubblico gli strumenti perché compiano delle scelte consapevoli. Ecco, questo sarebbe molto importante, questo sarebbe il compito dei mezzi di comunicazione. Grazie. 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 Grazie.